Allora, profondità di rosa, esperienza, alternative di spessore e allo stesso livello dei titolari, questo è il pensiero ricorrente, il diktat imposto sul mercato, condiviso dalla società e dal mister Antonio Conte, che sono in piena sintonia, al di là di tante voci che sono circolate in questi giorni, le parti sono in piena sintonia e stanno lavorando ad un mercato importante, molto importante, anzi aggiungerei. Il colpo a Chimi è stato un primo avviso delle intenzioni di un Inter che sta lavorando a diverse trattative già calde, due in particolare, come abbiamo detto anche sul nostro sito, riguardano soprattutto Tonali ed Emerson Palmieri, trovate tutti gli aggiornamenti ovviamente sul nostro sito www.passioneinter.com. Oggi però adesso parliamo dell'attacco, perché sta facendo molto discutere, è spuntata anche una candidatura diciamo tra virgolette particolare da tenere d'occhio, perché a prescindere da cosa accadrà con Lautaro Martinez e Alexis Sanchez, l'Inter riparti in attacco dal Romero Lukaku, sicuramente assolutamente intoccabile nella formazione di mister Conte, vuole aggiungere l'Inter questa volta alle sue spalle un calciatore simile al Lukaku, all'attaccante belga, almeno per caratteristiche fisiche, quindi un altro centravanti diciamo forte fisicamente, con esperienza anche a livello internazionale, un giocatore soprattutto di personalità, magari questo non guasterebbe sicuramente con qualche eh trofeo in bacheca, sicuramente piacerebbe. Le voci eh delle ultimissime ore si stanno concentrando soprattutto su tre profili eh due sono diciamo dei vecchi pallini eh Ed Ingeco da una parte era il preferito già la scorsa estate per affiancare Lukaku, Olivier Giroud corteggiato nuovamente anche a gennaio, attenzione però come detto alla nuova candidatura che è quella di Mario Mandzukic. Questi sono i tre eh nomi caldi eh per il ruolo diciamo di vice Lukaku, di nuovo attaccante in un reparto che dovrà essere necessariamente più profondo e più completo in vista della prossima eh stagione. Andiamo a vedere un po' di numeri e a fare il punto della situazione eh per ciascuno perché innanzitutto, tutti e tre condividono intanto la sulla carta d'identità la data di nascita, tutti e tre sono classe millenovecentottantasei, l'anno di nascita ovviamente, non la data, sono tutti e tre classi millenovecentottantasei, per cui sull'età non si sbaglia, siamo alla pari, diciamo così. Eh ci aiutiamo con il portale specializzato Transfer Market che sicuramente conoscerete, qui troviamo Mario Mandzukic, è l'ultimo nome e partiamo da lui eh quindi eh ribaltando l'ordine cronologico, si è appena svincolato, è questa la notizia che ha fatto scaltare gli allarmi, diciamo così. Eh si è svincolato dall'Al Duhail, squadra catariota, non ha giocato molto come vedete dai dati eh di questa stagione e della stagione precedente, solo sette presenze con la formazione catariota con cui ha messo segno un solo gol eh con la Juventus non aveva giocato nella stagione diciannoveventi eh mentre nella stagione diciotto diciannove aveva messo eh insieme trentatré presenze con un totale di dieci gol e sei assist, numeri eh ovviamente non esaltanti in maniera clamorosa, diciamo così, in questo momento eh però quali sono i fattori che fanno tenere gli occhi attenti anche su Mario Mandzukic? Ha un rapporto speciale con Marotta innanzitutto, i due sono molto legati eh al di là della sfera professionale, è libero a parametro zero, come dicevamo, eh sta valutando concretamente il ritorno in Serie A e quindi ci sono diverse strade che potrebbe valutare in Serie A tra cui c'è anche l'Inter che viene segnalata eh soprattutto per via di questo rapporto con eh diciamo con Marotta. eh questo quindi è ehm Mario Mandzukic, poi scorriamo altro nome caldo, altro nome importante accostato all'Inter e che sta valutando l'Inter per il ruolo di vice Lukaku è quello di Olivier Giroud, anche lui come detto classe 86 francese eh e non croato come invece lo è Mario Mandzukic ehm era stato cercato più riprese, lo sappiamo, è un nome che circola ormai da un anno, anche lui in orbita Inter ha rinnovato fino al duemila e ventuno, potrete dire vedendo questi dati qui che vi mostra eh grazie al portale Transfer Market che eh ha segnato pochissimo e i numeri non sono anche qui molto esaltanti questa stagione, però sappiamo che Giroud è un bomber differente, un attaccante differente, ovvero non è un vero bomber da valanghe di gol, eh lo abbiamo visto per esempio al mondiale dove non ha segnato ma il commissario tecnico Deschamps lo ha indicato tra i suoi calciatori fondamentali per il tipo di lavoro, il tipo di gioco che fa eh da non sottovalutare però parlando di numeri che tutti i suoi gol di questa stagione sono arrivati nel duemila e venti ovvero nell'anno solare eh duemila e venti in questi ultimi sette mesi in cui di mezzo c'è stata la lunghissima pausa che sappiamo. In Premier quindi ha segnato solo nel duemila e venti eh diciamo che dopo la prima parte con poche presenze ora si sta guadagnando spazio e gol eh con il Chelsea che tra l'altro vola verso la qualificazione in Champions quindi l'età avanza però si sta dimostrando ancora in palla e ancora sul pezzo. Infine scorriamo con il terzo nome ci siamo tenuti per ultimo un nome eh pesante comunque che è quello di eh Edin Dzeko eh Edin Dzeko che anche lui è un vecchio pallino come dicevamo anche lui abbiamo detto classe ottantasei eh in scadenza di contratto con la Roma nel duemila e ventidue a differenza di Giroud che invece era duemila e ventuno con il Chelsea ehm ha un ingaggio molto importante che grava abbastanza sulle casse diciamo non floridissime del club giallo rosso quest'anno come vedete di fatto ha già eguagliato più o meno il bottino di gol e assist della scorsa stagione con qualche partita in meno ed è diventato soprattutto ancora più leader di una Roma di cui è anche capitano un'ottima stagione quella di di Edin Dzeko che tra l'altro tra i tre è anche quello che eh quest'anno e la scorsa stagione ha segnato eh di più pur non essendo comunque il gol e la sua principale caratteristica eh sui nostri social vi abbiamo chiesto eh chi preferireste quale sarebbe tra questi tre secondo voi il profilo giusto per l'attacco dell'Inter vado quindi a mostrarvi un po' dei vostri commenti che ci avete mandato sul nostro profilo Instagram vediamo un po' speriamo di non beccare commenti censurabili diciamo così allora Simone Bosu non è convinto mi dice ma uno forte no quindi questi non sono abbastanza forti eh Ricky Battaglia vota Mandzukic Lore Grassi duemila e quattro scrive ehm Mandzukic di gol non ne fa venti a stagione però segna sempre nelle partite importanti anche questo è vero e purtroppo lo abbiamo visto anche eh noi interisti sulla nostra pelle Falco Gesario mi dice Mandzukic Davide li prenderebbe tutti e tre eh Jacopo Mandzukic o Dzeko eh loro dici tre dice Giroud Benny number one si candida lui eh Maruzzello Prezio Dzeko di gran lunga ed in Dzeko Gian Lorenzo Battaglia vota Mandzukic diciamo che eh Giroud è quello che scalda meno probabilmente mentre gli altri due se la stanno giocando abbastanza almeno nei commenti sul nostro profilo Instagram eh vediamo anche Claudio Benford che ci dice Dzeko tutta la vita Gaspare nessuno non si accontenta eh di quelli che sono i nomi eh che stanno circolando quindi questi sono i vostri commenti fateci sapere anche sul nostro canale Telegram di Passione Inter punto com io in chiusura vi darei un po' anche la mia opinione eh velocemente se devo sbilanciarmi quindi se devo farmi anche un mio nome proprio a livello personale il profilo ideale secondo me sarebbe quello di di Edin Dzeko eh calciatore per me nel vero senso della parola cioè di uno che sa di calcio prima che sa giocare bene a calcio ha un'esperienza importante maturata soprattutto in Inghilterra ma conosce molto bene ovviamente il campionato italiano giocando da diversi anni nella Roma un leader silenzioso che è un leader vero però nella Roma eh gioca per la squadra e credo ehm che sarebbe perfetto non solo in alternativa a Lukaku ma anche in coppia con l'attaccante belga questo è quindi secondo me eh il plus la cosa importante e per questo dovessi scegliere io dovessi essere io diciamo così il direttore sportivo chi fa il mercato dell'Inter tra i tre farei il possibile per prendere eh Edin Dzeko eh vedo comunque anche da quello che filtra riguardo le notizie delle richieste di mister Conte più o meno anche il mister è su questa lunghezza d'onda fatemi sapere nei commenti se siete d'accordo con me se preferireste invece eh qualche altro nome mi raccomando vi chiedo di sostenerci ragazzi iscrivendovi al nostro canale YouTube dove siamo in diretta tutti i giorni alle diciannove e nei post partita in cui commentiamo eh le pagelle e le prestazioni sperando ovviamente di commentare risultati positivi eh siamo live ovviamente tutti i giorni anche su Twitch sempre alle ore diciannove sul nostro canale YouTube trovate tutte le varie clip che potete riascoltare anche in formato podcast su Springer Spotify Google Podcast e Apple Podcast quindi ci trovate praticamente ovunque mi raccomando ragazzi sosteneteci e aiutateci ad arrivare a quota 5.000 iscritti sul canale YouTube che sta letteralmente volando